Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A1 direzione Bologna chiusura i mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio A1 variante Baccheraia e Aglio in vigore fino al 30 aprile. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in pruneta. Incidente a Firenze nel viale Nenni angolo via Pisana in direzione centro città. Possibili disagi alla circolazione. Per il trasporto pubblico locale è in corso per marzo e aprile la sperimentazione tariffaria per l'abbonamento mensile integrato intermodale sulla tratta Pontasieve-Firenze. Infine ricordiamo l'obbligo in vigore fino al 15 aprile di dotazioni invernali, catene o gomme termiche per il proprio mezzo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!